La Commissione ha approvato un non-testo, cioè un pezzo di carta dove mancano delle parti fondamentali della legge elettorale. Cioè, basta dire che per quanto riguarda le tabelle delle circoscrizioni dei collegi, mancano, oltre il numero degli abitanti, anche i seggi che vengono assegnati. Cosa significa? Che se il Presidente della Repubblica dovesse prendere ora come ora questo testo di legge, non potrebbe sciogliere le Camere. Perché non si sa per ogni collegio quanti sono i seggi da assegnare. Questo è il livello del Parlamento italiano. Un Parlamento dove manca praticamente tutto. Non c'è nulla. Quindi è un non-testo. Ma in questo doppio turno di coalizione, Beppe Grillo ieri ha detto che svantaggia il Movimento 5 Stelle. È così? Ma quello è abbastanza evidente. Ormai manca solamente di inserire nel testo che se hai il nome, la parola Stelle, nel partito, nel Movimento, non ti puoi più candidare. Dopodiché c'è tutto. Questo è quello che accade. Quindi è un grande inciucio. È evidentissimo. Basta seguire bene quello che accade nella Commissione. Racconto questo brevemente. Ci sono stati dei gruppi, come per esempio Popolari per l'Italia o NCD, che fra ieri e oggi hanno detto che erano contrari a questo testo, vabbè fatto dura opposizione e così via. Però abbiamo notato che la collega Boschi riusciva a spiegargli così bene il testo che loro poi si convincevano e davano voto favorevole. Quindi alla fine tutti favorevoli, noi contrari e buona serata.